Mi chiamo Claudia, ho 52 anni, ho conosciuto Petra un anno fa, ho acquistato il suo corso, l'ho conosciuta su Facebook e mi è piaciuta tantissimo. Ho iniziato a praticare questo yoga facciale con molta curiosità e poi è diventato parte della mia vita, della mia routine. Amo tantissimo fare lo yoga facciale perché quando ho tempo, anche quando sono in macchina, mi metto a fare gli esercizi che si possono fare. Quando ho conosciuto Petra la mia pelle non era così bella, non era così fresca, non era così turgida, soprattutto così bella soda, come la chiamo io. Quindi mi è piaciuto tantissimo iniziare questa disciplina. Perché ero molto curiosa, di conseguenza volevo vedere fin dove sarei potuta arrivare, ma mi rendo conto che l'età c'è, però per me non è mai stato un problema. Tutto questo mi ha aiutato ancora di più a volermi ancora più bene, a prendermi cura di me e soprattutto con gli strumenti giusti e petrati da proprio gli strumenti giusti. Credo che a 52 anni valga la pena acquistare un corso di yoga facciale per mantenere la pelle sana, soprattutto senza dover utilizzare chirurgia plastica o butulino o acido ialuronico, che è l'unico cosa che io non amo e quindi sono felice così. Vi faccio vedere la mia pelle. Addirittura con Petra sono riuscita a sollevare anche il naso che ormai stava cadendo. Io mi diverto tantissimo. Auguro anche a voi di appassionarvi.